Sono certa che abbiamo qualche cosa da raccontarci. Allora, da che riprendiamo? Vabbè, ha richiamato appunto il ruolo di Salvatore Rossi, Presidente Camanzi, sulle assicurazioni di Salvatore Rossi, il Direttore Generale della Banca d'Italia, ma da quando naturalmente le competenze del settore assicurativo sono passate sotto l'edita della Banca d'Italia, è anche Presidente del DIPAS, la vecchia, che sbatta l'autorità di controllo sul mercato assicurativo. Non c'ha di tenere la crisi nel corso della giornata. Allora, abbiamo richiamato più volte il tema europeo anche appunto l'attività di regolazione italiana perché abbiamo chiaramente tutto il cappello europeo che ci disciplina e il quale dobbiamo arreguarci. A proposito di Europa, Presidente, l'anno prossimo il sistema bancario italiano sarà sotto l'edita della vigilanza europea. Ci può raccontare come si sta preparando il sistema bancario italiano a questo avvento che è necessariamente importante? Io lo racconto molto volentieri. Non mi farei centrale... No, però vogliamo sapere, naturalmente... No, perché poi... No, perché poi... No, però ci racconto un po' anche perché no, per me interessa sapere invece questo avvento europeo come poi andrà delle ricadute anche nel mondo bancario italiano per le eventuali reversioni appunto con i consumatori pieni. Intanto vi faccio precisare una cosa. Noi ci stiamo avviando a costruire un'unione bancaria con un obiettivo finale. per arrivare a quell'obiettivo finale abbiamo un'intervento di costruzione di un vigilante unico in Europa di un sistema di regolazione di supervisione unico in Europa. Noi come Banca d'Italia è che, come lei diceva, si risolga e io ti posto due cappelli su questa stessa testa. Perché sono qui come Banca d'Italia, sono qui come IDAS. Peraltro, qui abbiamo una bellissima parentesi, ma questo lo diceva lei stessa. A questo punto Banca d'Italia sono un po' un sistema di regolazione e supervisione sul campo di intermediari e servizi finanziari che include le banche che include i intermediari finanziari non bancari che include a questo punto le compagnie di assicurazione anche se i due istituti restano due entità regali e organizzative distinte che non mandano a questo punto un dettice comune, quasi comune. Mi soffermo su questo dettaglio di costruzione istituzionale perché non è chiarissimo a tutti, ma è un po' complicato. Banca d'Italia ha un direttorio formato da cinque persone e il suo dettice. L'IVAS ha un direttorio formato da sette persone, cinque le quali sono le stesse che costituiscono verso la quattro età e due consiglieri che sono esperti specifici nella materia assicurativa. Sono due organi collegati, questo è molto importante, questo è uno dei segni di discontinuità per esempio tra l'IVAS e il verbo l'ISBRAP. Questo è proprio un istituto verticistico, monocratico. L'IVAS ha a questo punto invece una testa collegiata. Per il fatto di essere passata sotto Banca d'Italia ha cambiato in qualche maniera anche il controllo sul mercato assicurativo? Soprattutto adesso le sto facendo due domande a punti tracciate e ritorniamo dall'Europa a questo, al territorio nazionale. Però ha cambiato in qualche modo? Allora, diamoci un'opera. Ok. Mi consento di un minuto per fulgare sull'Europa. Colpa mia, peraltro. Proprio di laggiare. Allora, per tornare all'Europa stiamo costruendo questo supervisore unico sulle macchie. La tutela del consumatore e dei servizi bancari che è una delle responsabilità in questo momento della Banca d'Italia come supervisore nazionale rimanerà una competenza nazionale. Quindi non entrerà in questa costruzione che è già molto complicata che è quella del vigilante. La strada che si porterà l'avere un vigilante unico che la conosciamo tutti bene e che ormai è un dibattito sui giornali quasi quotidianamente avrà un anno di tempo davanti a noi. Sono previste una serie di tappe e è prevista questa cosiddetta assequolite degli utili questa revisione delle qualità degli attivi che sono presenti nei bilanci bancari di tutti i paesi dell'ario e dell'euro siamo ormai peraltro ci troviamo da tanto tempo è già quindi siamo in una fase avanzata di preparazione affrontiamo questo pubblico comune noi italiani con assoluta serenità questo è il problema che è stato che lo ha più volte ribadito la serenità discende dalla consapevolezza che il nostro sistema bancario sente naturalmente cinque anni di recessione cinque anni difficili in cui si sono sossegite due recessioni in fila una condizione economica così difficile quale forse mai si era determinata in Italia tanto come non poteva non riflettersi sulla condizione del sistema bancario italiano ma tenuto conto di questo noi siamo fiduciosi nel fatto che le diverse tappe di costruzione del vigilante unico di inclusione della qualità dei creativi bancari non riserverà cattive sorprese eclatanti quello che riguarda il sistema bancario italiano e forse anche quello che riguarda il sistema bancario degli altri paesi che poi coinvolgeranno che saranno poi in questa operazione detto questo torniamo alla questione IVAS il compito che ci siamo dati noi della Banca d'Italia entrando nell'IVAS neopostituito dal primo gennaio di quest'anno è stato innanzitutto un compito di organizzativo e di ridefinizione nelle regole del massimo anche nelle regole del massimo interno quindi abbiamo per esempio unificato tutta la che si chiama la vigilanza castolare cioè la vigilanza che si fa a distanza che si fa sulla parte del campo e che si distingue dalla vigilanza rispettiva che si va a fare invece mandando gli istruttori in corpo che nel vecchio ISVAP non aveva una sua agilità autonoma dal punto di vista organizzativo quindi abbiamo creato un ispettorato di finanza come assomiglianza della modalità organizzativa della Banca d'Italia un ispettorato di vigilanza separato dal servizio che invece fa la vigilanza appunto così quanto ci sarebbe stato bisogno di questo ispettorato un paio di anni fa per un grande caso italiano chiusa parentesi poi magari non solo abbiamo creato una struttura autonoma di un ispettorato ma abbiamo scritto un manuale ispettivo che non c'era quindi quando si recano presso una banca se sono ispettori della Banca d'Italia o una compagnia insicurativa se sono ispettori devono portare con sé un manuale una guida devono sapere che cosa fare e queste linee di guida devono essere uniformi devono essere pensate limitate altrimenti si è in una condizione di debolezza per definizione nei confronti della compagnia che si va della compagnia o della banca che si va avete parlato sui ispettori sì ah quest'anno sì 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 abbiamo quest'anno sono già partite e si sono anche concluse numerose ispezioni IVAS alle quali hanno partecipato ispettori della Banca d'Italia che sono stato testato per così per favorire questa osmosi di pratiche di buone pratiche buone frianze se vuole di mentalità se vuole di costura di struttura tra gli investiti senta sa che c'è c'è tutela del consumatore un ambito bancario finanziario una scera una parità di una figura sicura che va questo è un tema in questo momento all'attenzione ci sono ridi del tema naturalmente no c'è una differenza tra i due mondi l'esperienza che abbiamo fatto con le banche d'Italia con l'abito bancario finanziario è io credo molto positiva spero che anche i consumatori la giudichino positiva quei consumatori che riconoscono l'esistenza perché un problema dell'abito bancario inizia nella sua esistenza ma come molti altri come molti altri scomentino che adottano anche le altre luogo di caldo esatto l'abito io credo che funzioni bene costa poco pochissimo da dei giudizi che nel record storico è di certi e brevi e corti e poi da dei giudizi che nel record storico che abbiamo davanti a noi nella maggior parte dei casi sono stati a favore dei consumatori non sempre la tua madre perché non è detto che i consumatori abbia sempre più successivi della sua però però diciamo di fatto quello che è successo in questi anni è questo perché la maggior parte dei giudizi e dell'abito sono stati a favore dei consumatori stiamo adesso riflettendo su un potenziamento di questo sistema voi sapete l'abito in realtà è è una entità autonoma rispetto alla Bacca d'Italia perché aveva la sua indipendenza di giudizio la Bacca d'Italia fornisce assistenza tecnica segretariale quindi le segreterie tecniche dell'abito sono credo a Minaro una roba una roba una roba che sono formite dalla Bacca d'Italia come personale dalla Bacca d'Italia stiamo riflettendo sulla opportunità di estendere questo sistema un'ultima domanda che volevo fare relativamente alle consultazioni che avete concluso a settembre sul tema della trasparenza avrete adesso a formulare le vostre conclusioni credo a fine dicembre c'è qualche cosa da raccontare a questo proposito? adesso vi sta parlando come Bacca d'Italia e Bacca d'Italia Bacca d'Italia naturalmente con Bacca d'Italia Bacca d'Italia una sparenza bancaria attesa del consumatore di servizi bancari e finanziari è una competenza che è stata assegnata alla Bacca d'Italia per me in un periodo relativamente recente in realtà la Bacca d'Italia già se ne occupava in anni precedenti però non è stato semplice e non ci si è messo poco tempo a far segmentare vorrei dire nella nostra cultura aziendale e anche nel nostro passio un concetto molto importante secondo cui chi tutela e difende la stabilità del sistema bancario per esempio e del singolo interno può far tesoro della tutela del consumatore di servizi offerti da quegli intermediari perché se i rapporti commerciali i rapporti d'affari contrattuali fra l'intermediario e i suoi clienti sono buoni sono corretti sono trasparenti questo accresce la stabilità di quegli intermediari e dell'intero sistema questa è una verità elementare come dire il concetto di fondo che però si è fatto strada gradualmente adesso credo di poter dire che sia infatti di nuova di nuovo acquisito da parte della parte d'Italia lo è anche da parte dell'IVAS e anzi forse dicendo di norme che abilitavano l'IVAS con base di questo a prima ha avuto più tempo con l'ISVAT il vecchio l'ISVAT ha avuto più tempo per costruire questa funzione di tutela del consumatore di servizi assicurativi in quel caso e di considerare quella tutela parte importante parte integrante della più generale vigilanza sulla stabilità e sulla solidibilità delle compagnie quindi noi ci muoviamo adesso al risolto di questa corrente nata nell'anno 90 e che si è imbrossata gradualmente nel corso di un anno a questo punto siamo credo pienamente consapevole facendo un mestiere al tempo stesso facciano bene anche l'altro e che non ci sono conflitti tra questi due obiettivi quindi sul tema della appunto trasparenza e la trasparenza è un aspetto importante in questo e consultazioni come sono terminate non ce lo vuole raccontare non possiamo parlare non possiamo parlare lei come anche cittadino che cosa ne pensa del fatto torniamo alle assicurazioni che sa che guarda da una parte all'altra come cittadino che cosa pensa del fatto che nel nostro paese ci sono almeno 4 milioni di auto che circolano senza tagliando o contagliando i contraffonti è un tema di sensibilità generale a decidere dalla vigilanza no anche qui il tema è più generabile riguarda tutta la questione del paese che dice il sistema di assicurazione della responsabilità città e del controllo questa è una storia annosa come sappiamo la questione di cosa consiste consiste nel fatto che le tariffe assicure e le frodi sono entrambe abnormalmente in Italia nei confronti internazionali sono due fenomeni speculati tra le fraude alte le frodi poi sappiamo sono concentrate in alcune località in qualche caso sappiamo essere il sistema che produce le frodi infiltrato alla criminalità operale sono anni che il tema viene ripartito non si è fino a questo momento riusciti a trovare una soluzione radicale di questo problema con il passaggio dall'ISVAP all'Iras ci siamo rimessi ad affrontare questo problema abbiamo preso di pesa con l'antitrust con Giovanni qui ed è uno degli esempi uno degli esempi di intensa collaborazione interistituzionale abbiamo preso l'iniziativa di far sorgere un tavolo di elaborazione di proposte concrete e coordinato dal ministero del sviluppo economico abbiamo fatto fino a questo momento io credo un buon lavoro io e i giornali di Bruzzera siamo personalmente impegnati in queste discussioni anche tecniche adesso siamo alliati a un momento delicato in cui non dobbiamo perdere tensione riformatrici perché gran parte del lavoro tecnico è fatto adesso bisogna entrare nella fase in cui questo lavoro tecnico si traduce in norme ci vogliono norme di legge ci vogliono norme secondarie regolamentari la presenza dell'antitrust è importantissima naturalmente in tutto questo perché occorre trovare una soluzione sia rispettosa del mercato che rispettosa della controrezza non ci possiamo immaginare soluzioni dirigiste che impongano la generalità delle compagnie o a singole compagnie tra questo con quest'altro abbassa le tariffe alza bisogna creare una condizione generale innanzitutto con norme che consenta di abbattere il fenomeno dei propri una volta fatto questo una volta quindi prodotta una generale trasversale riduzione di costi per le compagnie poi bisognerà stare molto attenti verificare questo è il compito principale dell'antitrust verificare che la concorrenza agisca fra le compagnie e questa generale riduzione dei costi si traduca attraverso la concorrenza in un abbattimento dei costi questo è il speriamo tra un anno di avere una delle allora da commentare in termini che sarò mantenere è molto importante l'attività politica perché ci vuole una notte direzione e ti penso la legge di stabilità che va a essere in attraverso ma ci vuole va bene grazie dottor Rossi grazie grazie